Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad io sono Federico oggi è il 10 dicembre 2021 Bitcoin 47.450 dollari quindi stiamo lottando proprio in queste ore per mantenere il prezzo al di sopra di importanti livelli di supporto che sono confluenti tra loro. Quindi ragazzi riguardiamo insieme la situazione analizziamo i diversi scenari guardiamo qual è in assoluto a mio avviso il livello più importante che Bitcoin deve rispettare soprattutto con la chiusura di domenica quindi la chiusura settimanale e per ragazzi vi porto un altro pattern nuovo che è molto somigliante a quello che vediamo sul grafico di Bitcoin. Quindi ragazzi come al solito lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri messaggi ragazzi guardiamo qui Bitcoin è ancora in corrispondenza di importanti livelli di supporto sto parlando della trend line che collega questo massimo storico con questo massimo proprio in confluenza con il prezzo di Bitcoin in questo momento quindi Bitcoin è stato rigettato in precedenza da questa trend line a seguito del breakout quindi della violazione della resistenza. Adesso stiamo ritestando lo stesso livello di resistenza come supporto quindi sarà importante vedere Bitcoin eventualmente consolidare e ripartire verso l'alto quindi in questo momento c'è sia questa trend line discendente collegando uno e due massimi ma abbiamo come sappiamo anche la media mobile delle 50 settimane proprio in arrivo in confluenza con questo livello. Quindi proprio in questo momento Bitcoin si trova in corrispondenza di questa trend line e in corrispondenza della media mobile delle 50 settimane quindi sarà importante chiudere la candela settimanale quindi domenica sera al di sopra di entrambe. Vi ricordo che abbiamo dovessimo perdere questo livello abbiamo un livello importante di supporto intorno ai 41.007 perché corrisponde a precedente resistenza resistenza e successivo supporto. Quindi per adesso vi ricordo che Bitcoin sta creando comunque dei massimi che sono tra loro uno più alto del precedente quindi abbiamo un minimo scusate minimi minimo minimo e altro minimo che sono tra loro uno più alto rispetto al precedente. Quindi la struttura ragazzi rimane rialzista perché abbiamo anche due massimi che sono tra loro uno più alto dell'altro quindi quello che non vogliamo vedere assolutamente è creare un minimo più basso di questo qui quindi più basso dei 40.000 dollari all'incirca. Per adesso Bitcoin è ancora molto lontano da chiudere una candela settimanale sotto i 40.000 dollari. Guardiamo poi ragazzi quest'altro grafico siamo invece sulle due settimane quindi ogni candela rappresenta l'andamento di Bitcoin sulle due settimane facciamo le misurazioni di Fibonacci e vediamo che dal massimo di Bitcoin fino al bottom del 2018. Come abbiamo già commentato insieme un po' di volte durante il ritracciamento centrale del bull market Bitcoin ha sempre ritoccato il livello del 1.61 e successivamente ha fatto un ritracciamento in prossimità del 2.61. Quindi durante questo bull market non c'è per adesso ancora nulla di diverso rispetto al 2013 e il 2017 quindi ritest del 1.61 e per adesso ritest del 2.61 quindi vogliamo anche qui molto vicino alle 50 settimane non vogliamo chiudere una candela settimanale sotto il livello del 2.61 che si trova a 46.003 quindi tra i 47.000 e i 46.000 dollari c'è molto supporto in arrivo per Bitcoin. Questa sarebbe la prima volta assolutamente è possibile quindi è uno scenario a cui dobbiamo prepararci che Bitcoin perda eventualmente questo supporto invece confermasse il supporto saremmo eventualmente pronti per continuare la fase rialzista di questo bull market. In ultimo ragazzi vi parlo di questo tipo di pattern che si chiama Tree Rising Valleys per cui praticamente i tre minimi tra loro uno più alto dell'altro ed è un pattern in particolare che si è visto nel grafico di Walmart sostanzialmente nei primi anni in cui era stato listato. Per cui abbiamo un minimo, un secondo minimo, un terzo minimo e poi successivamente un breakout in violazione dell'ultimo massimo. E' molto simile ragazzi a quello che c'è in questo momento sulla chart di Bitcoin. Abbiamo un minimo, un massimo, un secondo minimo, un altro massimo e poi un terzo minimo che deve essere logicamente più alto dei precedenti due. Quindi sicuramente molto simile a quello che stiamo osservando nella chart di Walmart. Quello ovviamente che deve accadere per non invalidare questo scenario è come abbiamo già commentato la perdita di questo minimo. Quindi vedere che Bitcoin fa con delle chiusure, non semplicemente con dei weeks a ribasso, una chiusura settimanale al di sotto del livello di supporto dei 40.000 dollari. Quindi fin tanto che quel livello non è perso possiamo comunque mantenere una speranza sulla continuazione del bull trend. Logicamente ragazzi nessuno ha detto che sarebbe stato facile. La strada verso nuovi old time high è sempre costellata di importanti ritracciamenti che fanno paura e logicamente mettono in dubbio importanti certezze. Quindi teniamo duro, vediamo come si comporterà il prezzo di Bitcoin. Ragazzi per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!